Ah ragazzi Abbiamo fatto proprio bene A prendere questi Questi biglietti gratis Per lo yacht Te che dici Eh anche secondo me È vero È davvero bello Poi abbiamo pure portato È molto grande Abbiamo pure portato Davide Insieme a noi Eccolo Ciao Davide Grazie mille Ciao Prego C'è anche l'amico di Davide Vedi lui Io non lo conosco Non lo posso portare Nemmeno io Vabbè comunque Questo dovrebbe essere Credo il marinaio O quello Eh sì Ok Sarà il marinaio Quello che fa balletti di gruppo Sono pure dei soldi sott'acqua Ah dei soldi Ma sono vedi Veramente No da quello che ho letto Sul Sul volantino Dove ho visto che davano i biglietti gratis Sono Dei Danno dei Eh Non so parlare Praticamente Danno questi bigliettini finti Che servono per i soldi Sono tipo i soldi del Del posto Ah ok bene Bene Grazie per un giretto sopra Gabri 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 Jack Jack Dimmi dimmi Jack parla inglese Quindi traduco Ah parla inglese Ok traduco Allora io Si si ha detto Che possiamo andare A visitare lo yacht A nostro piacimento E a tre piani Ha detto Quindi possiamo andare a visitare i piani Va bene Ha detto Ha detto Ci sono le camere Io vado un secondo sul tetto Comunque Gabri Ti ricordi Abbiamo fatto proprio bene A prendere questo Questo biglietti gratis Perché così ci rilassiamo un pochino Da La storia Del L'avventura Sull'aereo Un pacchettino Si quella storia del mostro Vabbè dividiamoci Lo vai Ok Quella storia del mostro Che ci voleva Uccidere Voleva far Cadere l'aereo Ma Davide non c'era ancora Però ho letto al telegiornale Ho letto al telegiornale Che un aereo Si è quasi schientato Eh si si Per colpa di un mostro Vabbè comunque Noi l'abbiamo salvato Infatti è vero Noi l'abbiamo salvato Si una specie di mostro Abbiamo pure sparato al All'assistente di Si all'assistente del 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 presidente Degli Stati Uniti d'America Che era il mostro Eh si me lo ricordo Era il mostro Travesse Eh era tipo camuffato Comunque Qua c'è una caffetteria vedo Guarda un po' di bagno ragazzi E le cose si comprano con i Con i Con i soldini Che si trovano in giro Eh si Eh a parte questi biscotti Che da quanto sono grandi Costano soldi veri questi Si infatti è vero Effettivamente sono molto grandi Questi biscotti Magari se non ci metto i piedi sopra Eh qua ci sono anche i tavoli Vedi i tavoli per mangiare Un canino Bellino il canino Un cane Mi sa che è il canale della nave Eh infatti Vado a prendere la Vado a prendere la stanza Andiamo Vai è vero Ci sono le stanzi Aspetta io torno un secondo Nella Nella piscina Va bene Veniamo anche noi Visto Bene Le prenderemo dopo Va bene Sì ok Vabbè comunque Eh Cosa vuole fare adesso Davide Perché ci ha Ci ha detto di ritornare in piscina Eh perché Adesso vuole fare un gioco Ah è vero Ah vuole fare un gioco Ok quindi Aspettiamo le regole Dici di prestare attenzione alle regole Ok va bene Ok va bene Adesso lui nasconderà un oggetto a random In tutta la barca Ok Ok in tutto lo yacht E chi lo troverà Lo porterà Ok va bene Aspetta Quindi io dobbiamo portare Eeeh Per primo vincerà 15 Eurini della barca Eurini della barca Sì 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 vai Signor capitano Oh Ne Eeeh Balliamo Adesso Dobbiamo portare una forchetta Andiamo a cercarla Andiamo a cercarla Nella L'avete vista voi per caso L'avete vista voi Trovata Trovata ragazzi Trovata Bravo Davide Vai allora Sei un Un veloci raptor Un veloci raptor Sono king Un tizio volato Un tizio volato Eeeh E' il tuo amico Un tizio E' il tuo amico E' il tuo amico E' il tuo amico Prima Davide Prima Davide stava Prima Davide stava pure Cantando la canzone di Spongebob Però va bene E' Vabbè ma mi sa che Quello là è un amico Tipo uno di quei amici Che tipo Cioè Ti conosci Non lo so Che te inviti così a caso Però non è che lo conosci bene E' tipo Quando invitavo te ai compleanni Quando ancora non ti conoscevo Bello Bene E' un altro oggetto Bisogna trovare? Penso di sì Boh vabbè E' ok Carta igienica Ha detto che dobbiamo trovare la carta igienica E' in bagno Ragazzi in bagno la carta igienica Sul tavolo Dov'è il bagno? Dov'è il bagno? E' giù Seguitemi Seguitemi Ok vabbè Ci sei già andato A fare i tuoi bisogni E' dalla stanza del capitano A destra Di qua di qua di qua Ok Anche le stanze È vero Ok Ah sì eccolo Bene Allora la prendo io La carta igienica Per questa volta Facciamo che la prenderà a lui Perché poi così Nella prossima Il prossimo oggetto Sempre che da un altro oggetto Lo facciamo prendere A Gabri Oh grazie Molto gentile Ok ragazzi Sta pure facendo notte Vedete c'è il tramonto Però Jack Vuole comunque che troviamo Un altro oggetto L'ultimo oggetto L'ultimo ha detto Questo lo fate prendere a me Va bene? Certo Certo Ok Ok Dice di portargli Un ticket d'oro Un ticket d'oro? Sì Un ticket d'oro Boh Vogliamo andare al terzo piano Ok E magari c'è qualcosa Infatti In una stanza del videogame Il primo e il secondo piano L'abbiamo già trovato Guarda Guarda qua Arcade Vedi un arcade Allora potrebbe essere all'arcade Vabbè comunque Soldi Ecco L'arcade è qui Ed è pure aperto l'arcade Bello Se ne lo prendi Io nel frattempo un po' gioco C'è i giochini I giochini Alle Le macchine ruba soldi Il ticket d'oro Vai lo prendo io Ok Bravo vai 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 Io nel frattempo gioco un po' A queste macchinette Vai che Mi danno pure Mi danno pure dei ticket Queste macchinette Belli E in fondo c'è pure una macchina Che dice che se Hai Dieci ticket Ti può dare una mazza Magari potrebbe essere utile Ora non credo Mettila la in testa Tanto Vabbè Quello molto utile infatti No io ovviamente Non la prendo Me li tengo Magari può servire anche a qualcos'altro Questi ticket Ok vabbè Anche se ho dei ticket me la prendo Io sto dando il ticket d'oro Al nostro Jag Jag È Jack No C'è proprio Perché l'hai chiamato Jag Jag Vabbè Il tuo nome mi sembrava simile al Jag Jag È simile al Jag Jag Infatti vabbè Comunque io non trovo più bigliettini Quindi mi sa che sono Finiti E che ce ne ho nove Quindi vabbè Comunque Magari sarà andato in camera Già a dormire Ah no mi è stato comunicato da Jag Che è andato via Ah ok va bene Allora È solo nostro È solo nostro Che bello Ha detto comunque che Dobbiamo giocare a dodgeball Come a dodgeball Ma se siamo in tre Non siamo nemmeno pari Questa è mafia Jack Jag Jack Jag Io contro voi due Dai io contro voi due Va bene Tanto deciderà Jack Che Eh lo so Mi sa che decide lui Infatti decide lui Ma quello di sicuro Questo che è il capo del mondo E ha detto C'era quindici soldi Dello yacht Se vinceremo Io ce ne ho già 42 Quindi Io sono Dai mafia però Questa Uccidiamolo Uccidiamolo No 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 Vi prego raga Prego Vai palla 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 No è mia regna Certo 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 Come no Va bene Se ti sei vado a dormire Basta Anzi no Perché bisogna ancora cenare Quindi Ora ci paga Quindici soldini Ecco grazie Jack Jag Non chiamare Jack Jag Si offende Vabbè andiamo a cenare adesso Io mi faccio l'ultimo bagno Io qui non si chiamare Jack Jag Ok Oddio Andiamo a cenare adesso Sono veramente Andiamo a cenare vai Ci facciamo una pizzata Dai la pizza voi Eccola la pizza Ciao Jack Bene Ti prendo una bella buonetta Mi prendo No io Vai bene Mi sarei tenuto i soldi Cioè io mi tengo i soldi No io solo la palla Anzi Anch'io Ah ok Vabbè io mi sento solo la pizza Prendiamo la pizza Sì lo so che possiamo Prendere un pezzo di pizza Comunque ragazzi Se avete notato O se ve l'ho già detto Non mi ricordo Io ho preso pure La maglietta firmata Con Ah bella Quindi Ah bella Vabbè comunque Io non prendo nient'altro Mi tengo i soldi Jack È proprio un gelatino Che basta Davide si prende ogni cosa Il gelatino Devo ingrassare No ma Davide sei È stato tutto ghiacciato Poverino È stato ghiacciato Ah il cervello Il cervello va Il cervello bruciato Il cervello bruciato No No ma che bello Con il gelato Eh infatti io la pizza Comunque me la tengo Per domattina a colazione Eh ma noi Davide Mangiamo la pizza Buona Andiamo Andiamo a dormire Andiamo a letto Adesso non vado a letto No nemmeno io adesso Mi finisco di mangiare la pizza Va bene Allora adesso io vado a dormire Buonanotte ragazzi Ah la camera è la 105 Ok Va bene Sì l'ho già presa io la 105 Ho già presa io Buonanotte allora Oddio Loro vengono sempre tardi a dormire Vabbè Buonanotte Anche a te Ok non svegliamo Pap Che sennò si arrabbia Vabbiamo nei nostri letti Vai veloce Ah che sonno Ah Porta Oh no la porta è via Chiudi la veloce Quanto sonno Se mi sembra di sentire dei rumori No no dormi dormi Vabbè Buonanotte A me brutto pap Ragazzi Eh Ragazzi Sono spaventato Sono spaventato Non riesco a dormire Vieni a dormire con me Dai Vieni a dormire con me No Meglio stare da solo No ma guarda Sono veramente spaventato Non riesco a dormire Mi è sembrato di sentire dei rumori Ma tu non dormi Sì Che rumori Aspetta Fai vedere un po' fuori Perché la porta è chiusa La porta è chiusa Non lo so Comunque Eh vabbè Ma la ha chiusa Jag Quando è venuta a dormire Infatti Ragazzi Sono gli alieni per caso Infatti No Ma che gli alieni Ma sarà una cosa La luce di sopra Che avrà c'è Tutto il genito Eh Cosa Cosa Non è la luna Questa non mi sembra No 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 Ragazzi 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 Chiudete le tende Sì È tipo una nave È tipo una nave Però tutta nera Tipo Eh Io sto sbagliando Ragazzi Quello non è Jack Quello non è Jack Sicuramente Ragazzi Oh no Oh no Siamo noi tre Jack La porta è aperta Andiamo a cercare Jack Andiamo 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 È tutto buio però Non si vede niente Dove andiamo Dove andiamo Io vado da questa parte Andate a vedere voi Dalla stanza della corrente Dalla stanza della corrente Qua c'è solo il bagno Qua c'è solo il bagno Qua c'è solo il bagno Qua c'è stato della corrente Eccolo Jack Ragazzi No ragazzi Scusate Prima di parlare con Jack Avete visto pure voi un'ombra qua Sì Ma io no Non so perché però Io ho visto un'ombra Ve lo assicuro Lasciamo stare Jack Eh lo so Jack Che è andata via la corrente Intanto Davide ha detto Una cavolata incredibile Siamo spaventati Jack Molto spaventati Bisogna rimettere la luce In qualche modo Cioè Almeno La porta La porta è chiusa ragazzi Non si apre Come è chiusa Jack Le chiavi su Daccele Le chiavi Davide Sì Davide Jack Le chiavi Eh Jack Jack Si diverti a parlare Ma Jack Noi abbiamo una vita da farci Ve lo c'è Non dobbiamo assolutamente ascoltare Ha detto che bisogna cercare La chiave in giro È una keycard Ma come la chiave Vabbè io vado nelle stanze Andiamo nelle stanze Ah ha detto che l'ha dimenticata in bagno Ok Allora andiamo Andiamo Ma Ragazzi Give it back C'è scritto Prendila E vai via Sembra un murale Perché ne so Fermo Fermo Vuoi stare Fermo Davide Raga Io sono molto spaventato C'è proprio scritto Prendilo E vai via Grazie a tutti